Ehm, Petunia! Un intervento super rapido! Qual è il problema, ragazzi? Il cioccioccolato si è indurito! Serve un modo per scioglierlo! Ah! Ah! Tutto sistemato, Duffy! Ho trasformato il tuo camion in una calda vasca da bagno! Ah, questa ficca è vita! Eh, grazie mille, Petunia! Quando volete! Ci vediamo! Ehm, Lola, il gelato è pronto? Sta arrivando! Allora, se assembliamo il gelato, il gelato è il regalo di compleanno per Taz! Per cominciare, una vaschetta gigante di ottimo gelato alla fragola! Beh, forse non come prima cosa... A seguire, la vaniglia! Eh, di già la vaniglia? E per ultimo, ma non meno importante, il delizioso e inimitabile... Cioccolato! Inimitabile? Comincio a metterli nella ciotola! Fermo! Forse dovremmo mettere prima il cioccolato! Ma che differenza fa? Ho paura di sbagliare l'ordine dei go... dei go... delle varietà di gelato! Io direi di partire col cioccolato! Eh, no! No, no, la vaniglia! No, 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 no! La fragola! La vaniglia! La vaniglia! Allora, hai deciso, porchi! Eh, sì, 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 no, no! Io levico le palline per rendere tutto perfetto. Meglio ripassarle di nuovo. Non si sa mai. Ora scegli il secondo gusto, porchi! Eh, ok. Procediamo con la vaniglia. No, 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 il cioccolato! Ecco che ricomincia. Eh, triplichiamo le dosi! D'accordo, capo! Eh, proprio più gelato richiede più lavoro di levigatura. Oh, polchi! Il gelato si sta sciogliendo! Che cosa facciamo? Eh, 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 aggiungi altro gelato! Eh, no, 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 no! La, la, la glassa! Rissevuto! Oh, no, 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 no! Panna ai confettini! Oh, mamma mia! È un disattisa, è un pasticcio! Zuffo a bomba! Non dimentichiamo... Oh, la ciliegina! Così non è affatto un gelato perfetto.